Guardi, lo farà se ritiene di farlo. A me pare che la risposta di Salvini sia stata una risposta molto netta. Io confido e sono certa che la Lega saprà spiegare tutte le cose che possono non essere chiare in questa vicenda. Certo, se posso dire, mi fa un po' sorridere questa levata di scudi della sinistra. Addirittura hanno chiesto una commissione di inchiesta sui finanziamenti russi. Facciamo una commissione di inchiesta, ma partiamo da quelli che prendeva il PC, che è sicuramente l'unica forza politica che i soldi dalla Russia ha presi sicuro. Oggi da qua da Catania e per qualche decennio.